Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Andrea Foffi per parlare di Speedmaster Finalmente abbiamo creato questo piccolo gioiellino che parla di questa selezione di Speedmaster messa via e custodita Una bella selezione di Speedmaster, di Speedmaster particolari anche mai visti Sì, ritornando, riallacciandomi al discorso di prima di come è cominciato la passione il mio brand principale appunto fu Omega, quindi cominciai con Omega io e quindi tassello dopo tassello, anno dopo anno, mettevo sempre via l'oggetto più bello, più rappresentativo e quindi fino a oggi ho deciso di collezionare, insomma di mettere via degli oggetti facendo una collana completa che va dal 57, che è il primo Speedmaster, fino ai giorni nostri ecco, quindi ho deciso di fare questo libro dove appunto all'interno ho messo tutti gli orologi tutti questi Speedmaster che ho deciso di selezionare perché Speedmaster sono un'infinità di modelli però ce ne sono alcuni che sono più rappresentativi sì, diciamo che ho deciso di collezionare quelli che a me personalmente piacevano di più e che secondo me erano più rappresentativi in assoluto sono 71 orologi, e scusa la valigetta che sono solo le 23 pezzi diciamo è stata fatta un'introduzione di Owl Bucks c'è Fratello Watch, Crono24 e in più c'è anche un astronauta che ci racconta dei suoi orologi di come sono stati usati, le loro missioni è anche un oggetto diciamo bello da leggere e sembra che ogni volta che uno lo apre è la prima volta c'è qualcosa di nuovo c'è qualcosa di nuovo perché è pieno di contenuti, devo dire e poi per non parlare insomma delle foto che ora non per qualcosa ma io credo che questa qualità oggi la raggiungiamo soltanto con determinati macchinari fotografici e carta pure qua siamo all'avanguardia più completa questo è proprio l'ultima parliamo di esagromia led quindi sei colori illuminati sì a livello di editoriale il meglio partiamo qua dal 29-15 per poi arrivare insomma ai giorni nostri dove c'è il platino, gli spiritus è una collana completa dove c'è l'oggetto d'epoca l'oggetto moderno e l'epoca transizionale l'epoca transizionale l'integgio moderno e anche qualche oggetto molto molto raro un prototipo e naturalmente a parte la presentazione che vi ho fatto del libro ho deciso di di prendere vabbè qualche orologio che è presente appunto nel libro proprio lui che sta in questa valigetta qua contenente di sei orologi sei speedmaster sì che sono moderni che sono moderni iconici sì iconici diciamo che quelli che in questo momento fanno magari un po' più un po' più rumore lo snoopy quello bianco che è il secondo snoopy che è stato fatto esatto poi qua abbiamo poi l'ultimo snoopy moderno l'ultimo snoopy moderno blu con il bracciale con il bracciale sì perché io a me piace a me piace l'orologio col bracciale non è non era brutto con il cinturino perché hanno fatto un bel cinturino di tela blu io qua ho diciamo ho attaccato questo bracciale che poi è il bracciale moderno dell'ultimo dell'ultimo col 38 su 1 coaziale e devo dire che insomma al polso è più bello da portare beh al polso fa la sua figura è molto molto più avvolgente e quindi lo porto con il bracciale l'orologio questo questo con il cinturino invece sta più lo vedo più inquadrato e questi sono i due snoopy poi qua abbiamo un paio di altri pezzi un paio di altri pezzi interessanti questo qua secondo me hanno fatto un'opera d'arte perché hanno ripreso quello del 69 sì e anche visti a confronto visti a confronto sono completamente uguali quello che vedrete nel libro perché io li ho messi a confronto sia all'epoca che al moderno quindi tutto ciò che hanno fatto all'epoca è stato rifatto li ho messi a confronto proprio fotografandoli fotografandoli insieme e devo dire che qua hanno fatto un'opera d'arte perché è veramente una replica fedelissima a quello del passato l'unica cosa che lo differenzia è questa lunetta che all'epoca non era naturalmente in bachelite ma era in alluminio ecco colorata e invece questa è d'alluminio però devo dire che è bella è bella perché poi ha la luce da un colore particolare un riflesso particolare ha il movimento a vista certo che non era presente che non era presente all'epoca è una tiratura limitata di 1014 pezzi perché appunto all'epoca ne fecero 1014 e devo dire che questo Apollo 11 qua è veramente molto molto bello insieme a questo hanno fatto il moonshine che è la versione acciaio e oro che non ho portato qua ma è comunque presente nel libro un acciaio e oro molto discreto perché comunque non è troppo pesante il confronto tra acciaio e oro è vero però c'è quel contatore molto bello con l'astronauta poi invece ho preso il 321 la replica dei 321 che hanno fatto di recente che è la versione acciaio ora è uscito anche il Brodarov 321 che spesso vedremo che presto vedremo in produzione non so la produzione quale sarà sicuramente limitatissima già questo è limitato già c'è difficile da avere questo qua figuriamoci poi il platino comunque ha un costo molto importante quindi questo qua che è d'acciaio calipo 321 a vista e poi hanno fatto il platino con il quadrante onice questo devo dire che anche questo è un'opera d'arte perché è veramente ben fatto alla luce ha un quadrante a specchio diventa in bachelite devo dire che anche il movimento quando giri l'orologio dici wow è proprio identico al 321 vecchio è un'esatta che poi tra l'altro è proprio io ho visto la produzione a Bienn loro hanno proprio una una sezione a sé per questo calibro cioè ci sono proprio degli orologiai che assemblano sono il 321 esatto il 321 ha un posto speciale per Omega si ha un posto speciale per Omega si hanno proprio una fabbrica cioè insomma un angolo un angolo dedicato a questo calibro per fare soltanto l'assemamento di questo calibro qua e quindi questi sono i 2 321 che hanno cioè sono i due orologi che hanno più viaggiato il 321 poi ho portato un oggetto del desiderio un po' di tutti perché è il classico racing primo racing 321 naturalmente con la scritta bassa Ozlight è la prima la prima versione la primissima versione che tra l'altro qua è montata su un'ansiedritt ma l'oggetto è nato così comprato da me personalmente circa 15 anni fa si arriva da città del Messico io non ho mai toccato nulla su questo oggetto e marca 63 lo vedrete poi nel dettaglio nel libro e devo dire che è un esemplare pazzesco questo qua si mettendoli anche a confronto per dire questo qua è d'epoca tutti gli altri sono moderni uno nota come lanza dritta di questo quando ho preso lanza dritta è comunque molto molto similare ecco c'è questo quadrante con il terzo di scala rosso proprio per evidenziare la scala nelle nelle corse la precisione delle tacche naturalmente sono stati fatti pochissimi di questi quadranti qua era una versione speciale evidentemente assolutamente ah poi il suo bracciale che è elastico che è un 7912 ecco il bracciale elastico credo sia una caratteristica che loro poi hanno cercato comunque di riprodurlo lo spessore è un po' più grande non è elastico ok però insomma è molto bello un fatto è molto fedele devo dire che anche la chiusura poi avendo le tecnologie di adesso bisogna fare anche dei miglioramenti perché sennò non avrebbe senso certo poi c'è la flip-off c'è la doppia chiusura per un discorso di sicurezza cosa che insomma prima non c'era e questi sono insomma gli orologi che alla fine ne ho presi sei perché comunque sono 70 orologi beh chiaro dovevamo stare qua a quattro giornate a parlare di tutti ma se lo comprate li vedete tutti e sono ben fotografati perché ripeto la qualità è altissima ah ho preso un orologio unico quindi insomma far vedere la qualità degli oggetti e la diversità questo è un close up no no questo è un esotico è un esotico maester è la prima serie sì no l'ultima serie questo è un prototipo insomma c'è da sbizzarirci e poi adesso abbiamo visto quelli qua dentro ma secondo me nel cassetto c'è qualcosa di particolare questo l'avevo levato beh questo è una cosa molto molto particolare questo è un 2998 1 del 59 è un transizionale perché ha la scritta diciamo del 2915 precedente base 1000 con il quadrante marrone molto molto raro di questi ne hanno fatti veramente pochi forse una dozzina di pezzi con questo 40 qua hanno tutto molto 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 particolare i seriali sono quasi tutti dello stesso grappolo perché sono 171 quindi è la primissima serie di 2998 e questo è una condizione strepitosa addirittura siccome è una posizione città del messico ha un più una x dentro la corona tutti quelli che venivano prodotti in sud america avevano questa peculiarità di avere questo logo al centro del logo mega pulsanti flat l'orologio tra l'altro questo non presente nel libro abbiamo un gemello che è identico a questo infatti si differenzia per soli 20 numeri da questo qua di seriale gli ultimi 20 ed è questo qua poi vi faccio vedere che è questo questo è il close up del quadrante che poi è questo il gemello e l'orologio è precisamente questo qua ecco questo è lo stesso orologio sono due esemplari praticamente tra l'altro questo è venduto a cuba nel 59 questo è venduto a cuba nel 59 sì perché in messico c'era una grande distribuzione in omega in quell'epoca tanti orologi sono stati distributiti in sud america tanti omega tanti omega e quindi questo è quanto quindi comprate il libro che avrete insomma non può non mancare in una in una collezione in una biblioteca come in una in una collezione di libri perché comunque è bello copertina poi soft touch ultraman con questa lancetta che esce fuori molto figo bene ragazzi grazie Andrea per questa chiacchierata anche su omega e per averci fatto scoprire questi pezzi grazie a voi mi ha fatto veramente piacere conoscervi anche a noi magari ci rivediamo presto assolutamente perché di orologi ce ne sono da raccontare assolutamente sì bene alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti